Musica Appuntamento all'Expo che però sembra che sia soltanto un punto di partenza poi per una promozione continuata di tutto il territorio tra Sanremo e Consiglio. Sì esattamente, è stato un primo banco di prova che ha visto partecipare 19 comuni del nostro comprensorio devo dire che sono molto soddisfatto della collaborazione che c'è stata e della sinergia tra tutti. È un punto di partenza, la collaborazione era mai diventata non più un divertimento ma un'esigenza poiché dobbiamo rilanciare il nostro territorio, non ci devono essere campanilismi e dobbiamo considerare secondo me una cosa molto importante che il nostro punto ora di forza non è più soltanto il mare ma il nostro entroterra poiché esso è tipico e unico. Quindi un'inversione di rotta secondo me ci deve essere puntando molto sull'entroterra parlo io che sindaco di una città di mare quindi può sembrare un paradosso ma in realtà invece è così. Quindi bene e auguro buon lavoro a tutti i miei amici sindaci e i loro assessori per un futuro di collaborazione che porterà sicuramente ottimi risultati.